Eccoci qui, siamo sempre ad Amatrice, siamo in uno dei punti di soccorso e di aiuto per i cittadini che si trovano in un momento di difficoltà. Abbiamo qui con noi un ospite, diciamo così. Presenta, come ti chiami, che cosa stai facendo? Buongiorno, io sono Tito Angelini, volontario del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta e con altri volontari di diversi gruppi di tutta Italia siamo qui a cercare di aiutare per quanto è nostra possibilità la popolazione di Amatrice. Nello specifico stiamo gestendo qui il Palasport in cui accogliamo persone che purtroppo hanno perso casa, hanno perso tutto e ci occupiamo anche delle forniture di generi di prima necessità, alimentari, vestiario che la generosità della popolazione ha fatto arrivare. Ok, allora, quando sei arrivato? Io sono qui da sabato mattina, noi copriamo il campo con turni settimanali di sabato in sabato e sarò qui fino a sabato prossimo quando poi sarò sostituito da qualche altro volontario. Ok, non possiamo farvi vedere dentro però davvero gli aiuti sono ingentissimi e come dire, una delle prime domande che uno si pone venendo qui è adesso che cosa manca più che altro se manca qualcosa di materiale eccetera perché ovviamente è stato detto che non servono più aiuti, diciamo panni, vestiti servono veramente dei soldi anche perché qui non c'è più niente nel Paese quindi anche voi rispetto proprio alle esigenze, visto che siete proprio a contatto con le persone che cosa manca in questo momento? Guarda, alle persone manca soprattutto calore umano e i generi di prima necessità, ripeto, la generosità della popolazione italiana ne ha fatti arrivare tanti, però voi comprendete bene che chi perde casa perde tutto e quindi c'è disorientamento nelle persone per cui noi oltre all'aiuto materiale finché possiamo chiacchieriamo, sorridiamo tra l'altro all'interno della nostra struttura abbiamo anche degli psicologi del nostro corpo che appunto cercano di dare un sostegno anche in maniera un po' più professionale alle persone che vengono qui a chiedere aiuto non solo materiale ma anche appunto un sorriso una parola di conforto, una pacca sulla spalla, qualsiasi cosa che possa dare loro anche una minima parvenza di normalità Ok, allora noi ovviamente ringraziamo Tito per la disponibilità Grazie a voi e continuiamo ad aiutare ovviamente questi territori perché veramente Noi siamo qui Ok, grazie Grazie a tutti